Nel mio sogno io avevo un mazzo di carte sui miei, completamente esaminabile. Nel mio sogno tutti gli spettatori mescolavano il mazzo di carte. Nessuno al mondo poteva sapere mai la sistemazione di ogni singola carta. Quindi era tutto casuale. Nominavano una carta, due di picche, numero 12. Qualsiasi carta di questo mazzo andava benissimo. Io non manipolavo niente, lasciavo tutto così, schioccavo le dita e la dodicesima carta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e la dodicesima era il tuo di picche. Questo era un sogno che ora è diventato realtà. Ciao!